Ciao a tutti dal salutatore, eccoci qua come un bravissimo attore fresco di Maremma Amara Dico bene? Grazie intanto per il bravissimo attore, poi devo dare un euro, no quant'era? E complimenti a 5 euro, qui si sale, 20 euro, 20 euro, vabbè poi dopo facciamo tutto il conto Allora Andrea Bagarelli, ti vuoi salutare? Saluto tutti quanti, saluto a te che poi io saluto a sto qua con te E' emocionato, è molto buona ragazzi, un salutatore Oggi si perché questo è il film che ho fatto, ce la farà? Non lo so perché il film l'ho visto Di più pari a un altro, ma questo sarà un film fantastico, sono sicuro e sono contento che essi qui con noi Io ti ringrazio e che ruolo hai nel film? Sono un farmacista però un po' so dire altro Top secret, ti andate a vedere che ne vedrete delle belle? Delle belle sicuramente perché abbiamo anche tantissime attrici molto belle Abbiamo, innanzitutto Quattro del Calbergo bellissimo pieno di, si può dire? Eh non lo so, se lo vuoi dire, è pieno di belle ragazze in giro anche Ecco però non ve le fa vedere, ve le fa immaginare, diciamolo E qui vicino a me dopo lo saluterai abbiamo il baffo di un famoso di Roma È Bresciano o Bergamasco credo che sia Lo facciamo venire? Vieni, 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 vieni qua Eccolo qua, presentiamo, un baffo spettacolare, eccolo qui Grazie, ho anche altre qualità, ecco Quelle poi, insomma, se vuoi scoprire, contattato, li trovo su Facebook Sì, Mirco Dottori o Mircaccio, altrimenti come la conventicola degli ultramoderni Siamo un gruppo rivoluzionario Ecco, vado bene pure io con le basette così Non so se bastate Ma la basetta non distingue l'ultramoderno, è una questione di approccio mentale Sono antico Dobbiamo venire Il fatto che ti stai cimentando con questo apparecchio dà più senso di ultramodernità Ah, ecco Ecco, un po' di fervore intellettuale, hai buone possibilità Ho qualche buona probabilità, possibilità, io ti ringrazio Di essere dei nostri ultramoderni Io sono il salutatore, tu non lo sai Ah, il salutatore, ho capito, è un vostro piacere Salutiamo, chi vuoi salutare nel web o dove vuoi? Chi voglio salutare? Niente, ve la salutare la mamma, ciao mamma Così si fa, immediatamente si fa così Lui è evoluto, sta avanti e giustamente saluta la mamma L'ultramodernità è questa, cioè l'unico sempre verde è salutare a casa Hai ragione, anche io saluto la mamma, la mia Ecco, ecco Esatto, e tutti quelli che mi conoscono E poi vuole salutare anche il Presidente della Repubblica e le istituzioni Ecco, perciò salutiamo Mattarella, il Presidente Mattarella Leviamo il capello Ecco qua, chapeau, chapeau E salutiamo anche il salutatore, facciamo questa cosa Io ti ringrazio Che importante, ecco, facciamo, da oggi non fa ballare Ufficiale, ufficiale Anzi, facciamo come faceva Truman Ecco, con le due mani Ecco, con le due mani Ecco, così come la conferenza di Yalta Cosa posso dirle adesso? Adesso diventiamo un attimo sempre Ci siamo, abbiamo aspettato tanto per questa anteprima E sono felice di essere qui insieme a tanti amici, tanti colleghi, tanti amici Speriamo bene, speriamo tanta merda, ti vuol dire Tantissima, per terra veramente ce n'è tanta Ecco, c'è proprio un fan Allora, vieni qui, salutiamo allora Corre, lo posso salutare? Tutti i due fans Ah, voglio salutare tutti i miei fans Ecco E anche le mie fans E ricordiamo di nuovo il tuo canale, i due canali La conventicola degli ultramoderne Mircaccio, Mircodettori.com Grazie Mirco Grazie Andrea Un saluto a tutti, ciao Ecco qui, non è finita